partiti cavalli della prima corsa condizionata dal maltempo e da forti raffiche di vento veloce dall'interno prende che cerca subito di prendere anche il comando delle operazioni veloce abbastanza anche sole di pio poi terza fascia occupata dalla giuba verde che è quella di keller hug la quarta invece occupata dal grigio weaver of life dietro a questi una seconda linea formata da kipana e shagurata dopo i primi 300 metri di gara 400 metri di gara il leggero vantaggio dall'interno è sole di pio nei confronti di prend keller hug weaver of life e shagurata che tentano la rincorsa kipana che in questo momento sta cercando l'azione migliore allora quando mancano circa 400 metri d'altra guardo sole di pio e prende si sono staccati definitivamente in lotta dalle retrovie tenta di venire avanti kipana tenta di venire avanti anche shagurata che comunque si presenta bene sole di pio è in vantaggio a questo punto ha preso una lunghezza che deve gestire nei confronti prende kipana che si fa minacciosa sole di pio è davanti kipana che gli dà l'attacco sole di pio contro kipana i due vicinissimi sul traguardo è molto stretta e dobbiamo rivederla per capire se kipana sia riuscita ad acciuffare definitivamente sole di pio fino a qui lo stesso era davanti ma proprio nelle battute finali credo che kipana lo abbia fulminato e agganciato definitivamente kipana batte sole di pio prende terzo quindi numericamente 765 una corsa che si risolve in basso riccardo jacopini in sella kipana il training è quello di simone bietolini la quota è di 5,43 765 il primo ordine d'arrivo della giornata chiaramente in attesa di ufficializzazione grazie grazie